Assessore Cappellini, la tradizione del presepe arriva anche qui alla fiera del giocattolo quest'anno? Un'iniziativa bellissima che come Regione Lombardia abbiamo sposato subito proprio perché ha un grande significato avvicinare il bambino, i più piccoli, a questo valore immenso che è rappresentato dal presepe quindi il fatto di aver coinvolto tanti bambini dalle scuole e anche negli ospedali significa avvicinarli alla nostra tradizione più importante alle nostre radici culturali cristiane e quindi un messaggio significativo che è stato lanciato qui oggi ma che ovviamente è pienamente nelle corde di Regione Lombardia della nostra azione politica e culturale. Il valore identitario sociale che avrà anche un premio, c'è una giuria, insomma questi progetti sono stati selezionati, questi presenti? Sì, c'è una giuria, un concorso a tutti gli effetti, è bello vedere come i bambini si siano cimentati manifestando tutta la loro creatività con materiali diversi, con oggetti diversi ma con un unico filo conduttore che è appunto quello di costruire il proprio presepe. Grazie. Grazie.